Salve a tutti, la cucina di Petumano Roswell è un nuovo piatto stamattina da presentare che sarebbe frittate di zucchine aspettate non andate via faccio vedere cosa mi ci vuole per fare la mia frittata di zucchine aspettate frittate di zucchine uovo, zucchine, cipolle, mozzarella, olio, sale, si batte, olio appena l'olio diventa calda si aggiungiamo la nostra cipolla e vi ricordate ancora di iscrivervi il canale di Petumano Roswell vi fate condividere video con vostri parenti e amici l'iscrizione è gratis e gratuito non si paga nulla ok guardiamo che si parte con questo nuovo ricetta di Petumano rosmeri olio cadda aggiungiamo la nostra cipolla appena si è arrosolato e lo mettiamo aggiungeremo poi la nostra zucchine aspettate un po' arrosolato aggiungiamo la nostra zucchine mettiamo un po' di sale e se voglio anche un gosciolino d'acqua poco 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 così si cosce il zucchine si facciamo cuocere la zucchine per 20 minuti e a più tardi e 20 minuti che cuoce è pronta la nostra zucchina ora si spongi e si parte fra frasi più successiva aspettate aspettate dovete vedere come verrò la mia frittata di zucchine vi raccomando facciamo l'uovo rimane sempre si lava sceglie la fadella al fuoco mettiamo un gocciolino di olio qui aggiungiamo un gocciolino di sale, un po' di pepe, le mani di lava, si mischia e si aggiunge la nostra zucchina. E si mischia tutto. Nel frattempo il nostro olio nella padella sarà calda. Ora si controlla. Ora si benza, si è schiato bene. Ora mettiamo tutto dentro la padella. Ora cerchiamo un tappino, come sempre, un tappino. Lasciamo cuocere per 5 minuti. Per 5 minuti cerchiamo di girarlo. Lasciamo così. Questa volta è venuta così. Mi spiace. Ok. Girata. Ora si parte a finire con la nostra mozzarella. Ora si lascia cuocere per 2 minuti e la nostra frittata di zucchine è pronta. Vai! Tappiamo 2 minuti. Oh! La nostra frittata è pronta. E vi ricordo ancora, l'iscritto al canale di Eftbore 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 Eftbore. All'occhio sembra buonissima, ma poi bisogna provarla. Comunque è buona, è buona. Venite anche voi a mangiare al ristorante di Eftbore 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 Eftbore. E dovete dire tutti ad Avenir Baffo! Grazie mille Padre Valerio. No, non te l'hai richiesto. Chi sei? E ormai non lo sanno chi sei, Padre Valerio Evangeliste. Ecco, vi ringrazio tutti. e vi ringrazio tutti i suoi iscritti al canale di Eftbore 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 Eftbore. Questa è la mia frittata di zucchine di oggi. Alla beviva fu! Come dice Padre Valerio.